Dal libro del Siracide Chi ha scrutato la sapienza di Dio, che è prima di ogni cosa? Prima di ogni cosa fu creata la sapienza, e l'intelligenza prudente è da sempre. Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli. Le sue vie sono i comandamenti eterni. La radice della sapienza a chi fu rivelata, e le sue sottigliezze, chi le conosce. Ciò che insegna la sapienza a chi fu manifestato. La sua grande esperienza, chi la comprende. Uno solo è il sapiente, e incutte timore, seduto sopra il suo trono. Il Signore stesso ha creato la sapienza, l'ha vista, e l'ha misurata. L'ha effusa su tutte le sue opere. A ogni mortale, l'ha donata con generosità. L'ha elargita a quelli che lo amano. Il Signore regna, si riveste di maestà. Il Signore regna, si riveste di maestà. Si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di maestà. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile il tuo trono da sempre. Dall'eternità tu sei. Il Signore regna, si riveste di maestà. Davvero degni di fede, i tuoi insegnamenti. La santità, si addice alla tua casa, per la durata dei giorni, Signore. Il Signore regna, si riveste di maestà. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero dal monte e arrivando presso i discepoli videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò. Di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose Maestro ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri lo getta a terra ed egli schiuma di grigna i denti e si rigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro O generazione incredula fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me E glielo portarono Alla vista di Gesù subito lo spirito scosse con convulsione il ragazzo ed egli, caduto a terra si rotolava schiumando Gesù interrogò il padre Da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose Dall'infanzia Anzi spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo Ma se tu puoi qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci Gesù gli disse Se tu puoi Tutto è possibile per chi crede Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce Credo Aiuto alla mia incredulità Allora Gesù vedendo accorrere la folla minacciò lo spirito impuro dicendogli Spirito mutuo e sordo Io ti ordino Esci da lui E non vi rientrare più Gridando E scotendolo fortemente Uscì E il fanciullo diventò come morto Sicché molti dicevano È morto Ma Gesù lo prese per mano Lo fece alzare Ed egli stette in piedi Entrato in casa I suoi discepoli gli domandavano in privato Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo Ed egli disse loro Questa specie di demoni Non si può scacciare in alcun modo Se non con la preghiera